La prospettiva, forte della sua tradizione, venne modificata per assumere nuovi significati, dando così la possibilità a Michael Packer di vivere nel pantheon degli artisti europei e mondiali. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS La prospettiva e revisione a cura di QTSS La prospettiva di QTSS La prospettiva di QTSS La prospettiva di QTSS